a voce, ringraziamo Gino Strada per l'impegno che ha sempre dimostrato, però noi abbiamo la guerra in casa in Sardegna, abbiamo Marco Diana che è un militare che sta morendo perché gli rifiutano le cure, abbiamo militari morti, cioè ma perché si deve arrivare a questo? Lo Stato italiano in casa vergognosamente 50.000 euro all'oro per l'affitto delle nostre basi, cioè noi abbiamo gli animali che muoiono, abbiamo avuto 14 feti nati malformati in due anni alla fine degli anni 80, io dovevo dirlo perché i giovani devono essere sensibilizzati visto che non passano queste notizie, ora avremo il processo a cuirla, in pratica è già arrivato un bel camion di sabbia per insabbiare il tutto, perché ci sono 20 indagati illustri, generali, colonnelli e anche ovviamente qualche amministratore ignato, perché si ostina a negare, ebbene, le nanoparticelle non esistono, un'ulteriore inchiesta, ma sono state fatte già tre inchieste da parte del Senato, la dottoressa Gatti l'ha ampiamente dimostrato, allora noi siamo in tanti, facciamo parte di associazioni, proprio perché è da dieci anni che stiamo denunciando questa cosa.